Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Allora, oggi sono qua Con il signor Alessio che avete già visto Siamo qua per fare una reaction Ovviamente Quando mai nel mio canale non ci sono reaction? Perché un'ora fa Specifichiamo, ma stavo dormendo ancora Per quanti minuti non si sa No, esatto E' uscito il nuovo video Delle Lovelich Di cui non ho mai portato una reaction in questo canale Perché li ho sempre guardati senza fare la reaction Però in realtà li seguo Quindi ho detto, vabbè, oggi portiamola E siccome più o meno Diciamo che li segui anche tu Diciamo di sì E allora devo cercare di farle insieme Bando le cianciolemo a questo video Che devo vedere cosa combinano Glitter Polvere di glitter Eccola, subito davanti Già cambio d'abito Mamma mia Tre cami di abito in tre secondi Sempre Che poi tutti bellissimi vivono sempre Tag glitterato Anch'io voglio Sarà Mirtillo Frutti di Bosco Brunberry Che bella che è lei Usano ancora le tv al tubo catodico Sì Solo loro Iphone X O XS Dipende dai punti Giusto Eccola qua La tua tua amica La penna peserà un chilo e mezzo Tutta quella roba addosso Sì, è già povera Lei è piccolina Sono tipo Sai quelle cose di Natale Sì, le sfere Esatto Che agiti Comincia a serci Ma Che bello Non riesco a capire quale abito mi vici di più Però va bene Ma secondo me è quello chiaro Bianco Eh, forse sì C'è qualcosa di Natalizio però Di Primaverile Natalizio Sì, un po' Ci sono le quattro stagioni insieme Tra poco arriva l'estate Bello Perfetto Sempre E comunque Loro caratteristica E poi adesso c'è Capodanno Non combinati Bella, stai scena Baby Gli omenti trasparenti sempre E dietro c'è quello che lancia il pet Esatto Sta bene così Con la frangetta Mezzo in osso È molto delicato con la video Sì, infatti Ma tu Ma questo tè Guarda Non vedremo fare Prima o poi Che figo Voglio con gli orecchini Sono bellissimi Io voglio il tè Ha aperto la porta del paradiso No, esatto Che sta succedendo Aspetta Cosa c'è sotto? È carina la fontana Ma anche quello sta rosa Mi piacciono solo Quindi non lo so Vabbè Tanto sto a prendere Qua stessi cosa La chiamata Ma chi era? Ma È mamma Bene Pimpolo Il video è finito È stato molto Non lo so Breve ma intenso Sì Ma natalizio Tutte le fagioni Primaverili Tutto Bello comunque Mi è piaciuto La canzone Sembrava carina Quindi Sì beh Ma loro hanno sempre Un po' questo stile Bello, bello Non hanno mai fatto Canzioni Non volgare Semplice Leggero Quindi sì Bello Ci è piaciuto Diteci voi nei commenti Cosa ne pensate Se seguite le Lovelies Se siete fan Se le stannate Se le avete scoperte Con questo video Non ne ho mai Di dire mai Nella vita E niente Le scoperte Nella vita Esatto Lasciate un like Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale Ci vediamo Nel prossimo video Ciao